Servizio clienti Facebook e Instagram da Ogie Meta Platforms Eh, buongiorno, sono l'utente Brando Mattei Buongiorno Brando, a cosa stai pensando? Sto pensando che non ne posso più di vedere i miei post bannati, è il decimo in una settimana Lei ha visionato le linee guida della community di Facebook e di Instagram Ogie Meta Platforms? Sì, dicono di non postare roba razzista, intollerante e violenta, ok, e non capisco cosa questo abbia a che fare con i miei post Il suo post non rispetta le linee guida della community in materia di disinformazione scientifica No, mi scusi, io ho scritto solo che il diritto al lavoro non può essere subordinato ad un QR code, ho scritto solo questo, parola per parola Il suo post non rispetta le linee guida della community in materia di disinformazione scientifica Disinformazione scientifica? Ho riportato un grafico dell'aumento dei disoccupati Il suo post non rispetta le linee guida della community in materia di disinformazione scientifica Ma voi non potete fare così? Se ritiene la nostra decisione errata può contestarla tramite apposito modulo Ho inviato quel modulo tutte le volte ma non mi rispondete mai Grazie, il suo feedback ci aiuterà a migliorare il servizio di Facebook e Instagram da oggi Meta Platforms Cosa devo fare per evitare tutte queste censure? Me lo dite! Per migliorare la qualità della sua pagina può richiedere il badge di verifica tramite apposito modulo Le verrà chiesto di inviare un documento che accerti la sua reale identità Ok, un secondo Ecco, fatto, ve l'ho inviato Elaborazione della richiesta in corso La sua richiesta è stata presa in esame Tu guarda che paga Elaborazione terminata Ah, finalmente La sua pagina al momento non soddisfa i requisiti per la verifica Cosa? Ma ho inviato tutto quello che mi avete chiesto Può ritentare l'invio della documentazione? Eh, ok Tra 30 giorni 30 giorni? Ma a me serve subito Stanno facendo pure account falsi a mio nome Le ricordiamo che la continua violazione delle nostre linee guida della community potrebbe limitare la visibilità del suo profilo o della sua pagina E infatti non mi vede più nessuno Non appaio più in bacheca e sono passato da 2000 condivisioni apposta a poco più di 15 Ma mi prendete per il culo Io non... Chiamata in arrivo sulla seconda linea Attendere prego Ma che cosa? Servizio clienti Facebook e Instagram da oggi Meta Platforms Amore, tesoro, sono Enrico Come butta, Zuccherina mia? Enrico, ciao Come stai? A che stai pensando? Sto pensando che chi non lo pensa come me dovrebbe essere appeso e privato del diritto di voto Ahah, sei uno spasso, Enrico Senti un po', Zuccherina Ho appena creato una pagina nuova Me la spingi un po'? Ma certo Come si chiama? Populisti merda, morite male Carina Servo il documento, Zuccherina? Ma no, lo so che sei tu, Enrico Te l'ho già lanciata Grazie, Zuccherina Sei un tesoro Un bacio Ciao, Enrico Pronto? Pronto? Oh, c'è qualcuno? Servizio clienti Facebook e Instagram da oggi Meta Platforms Sì, vabbè, sono quello di prima Brando Mattei Qui è un crollo verticale Sono praticamente sparito Neanche io vedo più la mia pagina La sua pagina è soggetta a restrizioni a causa di un suo recente commento pubblicato alle ore 09 e 45 minuti Un commento? Che commento? L'utente Brando Mattei ha scritto Sei una sciocca Sotto il commento di Valentina, cittadina del mondo pubblicato alle ore 09 e 43 minuti Ma mi ha dato del fascista e mi ha augurato la morte Suo commento non rispetta le linee guida della community in materia di molestie e cyberbullismo Sai per cosa? Non è possibile menzionare Brando Mattei perché ha pubblicato ripetutamente contenuti che violano le linee guida della community in materia di contenuti falsi Quali contenuti falsi? L'è stato appena impedito di pubblicare per 30 giorni Arridaglia con questi 30 giorni ma non è possibile La sua pagina rischia di essere rimossa a causa della continua violazione delle linee guida della community Ma state scherzando? Ma non sto passando? La sua pagina è stata rimossa Rimossa? Si ritiene la nostra decisione errata può contestarla tramite apposito modulo Ma vaffanculo Grazie Il suo feedback ci aiuterà a migliorare il servizio di Facebook e Instagram da oggi e Meta Platforms Ma pronto? Pronto?